tappereste le orecchie un attimo? Ok. Tutti per favore. Tutti tappatevi le orecchie mi raccomando. Ma sei scemo! Questa è una roba che ha già fatto un'altra volta. Si era per riprendere perché ho visto che è stata ripresa da Striscia. A Striscia la notizia ci hanno fatto il culo e adesso vi faranno il culo ancora!